Molti di voi aspettavano questo momento nella serie principale di Minecraft da un sacco di tempo La ricerca delle teste del Wither Io so che me ne pentirò Perché una volta che faremo un ascio e il Wither Da quel punto non si potrà più tornare indietro Però l'avete chiesto nei commenti Pertanto ragazzi spolliciate, commentate, iscrivete e attivate la campanellina E buona visione Bene ragazzi, questo è Fmi e bentornati nel 41esimo episodio della serie vanilla di Minecraft Che dall'episodio precedente è ufficialmente all'interno di un Realms Dove però siamo da soli, per fortuna Sono in cima alla mia casetta per il semplice motivo che è notte Dobbiamo assolutamente dormire E prepareremo la spedizione, come vi ho detto nella intro, all'interno del Nether Una cosa importantissima è da non sottovalutare Che all'interno del Nether non dovremo solamente cercare di teste del Wither Grazie alla nostra spada col saccheggio 3 Ma a quel punto, già che ci siamo Cercheremo di raccogliere più quarzo possibile Il quarzo è un materiale molto interessante Soprattutto per le costruzioni E noi ne abbiamo veramente poco all'interno del nostro magazzino Volevo farvelo vedere Che succede qua? C'è tipo un blocco invisibile Oh! Ma mi cadono persone dal cielo! Senti Gino e il pulcino Io non so cosa ci faccia tu qua Sei un mercante Lascia stare il mio magazzino Non t'azzardare a toccare nudo Ciao Alfredino! Tutto bene? T'ha a posto? Scendiamo al piano di sotto va? Io avevo messo del quarzo pure qua dentro Nonostante ci fosse la cesta al piano di sopra Quindi in teoria voglio fare questo trasferimento qua con voi Perché se poi mettiamo il materiale in due cesti diverse Ci perdiamo e non ritroviamo manco noi Molto bene! Sarebbe davvero figo riuscire a riempire completamente questa cesta Ma probabilmente non è ancora questo il giorno Dovrei avere tutto ciò che mi serve all'interno dei miei shulker box Qua sotto già abbiamo ancora un villagero Poverino è rimasto da solo Vabbè affari tuoi Un giorno porteremo altre persone qua Non ti preoccupare Si vola un po' umbriachi Ma va bene così Noto con piacere che non ci sono dei pillager pronti ad attaccarmi Dobbiamo andare verso la fortezza che avevamo trovato la prima volta in assoluto E dove caspita era la prima fortezza che abbiamo trovato in assoluto? Forse da questo lato Una delle prime visite che abbiamo fatto a quella fortezza risale a tantissimo tempo fa Portassimo a casa una decina di stack sarebbe veramente un sogno La strada mi sembrava a tutti gli effetti questa Ma probabilmente mi sbaglio Anche perché non c'è un vero e proprio collegamento Com'è possibile che io non abbia fatto un collegamento? Ho già capito ragazzi Mi conviene andare a ricercare le coordinate nel block notes che ho sul telefono X368 Y67 Z-800 Devi stare molto sereno Molto sereno La devi smettere? Dov'è che spari? Ma è sparito raga Ma gli è preso un infarto Si è volatilizzato Visto che abbiamo l'elitra e abbiamo anche i razzi Direi di approfittarne e di attraversare molto velocemente tutto quanto il nether Vedo delle Oh! Oh! Oh vedo delle cose Delle torce Fermo fermo Devi stare calmo Voglio provare a ucciderlo raga con la spada che ha looting Così magari ci droppa delle gocce Dai così E caga un po' il lesso Dov'è il drop? Non ci ha droppato niente Invece sì Lacrima di ghast Ce l'abbiamo Questo sicuramente l'avevo fatto io Perfetto Se abbiamo ritrovato la strada dell'altra volta Siamo a caballo Era forse da questo lato Non sembrerebbe Però se noi dobbiamo andare a Z-800 La strada è necessariamente questa Ci siamo Ragazzi Abbiamo trovato il collegamento Quindi per adesso Va benissimo essere arrivati qua Vedo con piacere che c'è anche il mio portale E noto con molto piacere Che c'è già uno scheletrozzo Allora inseguimi un attimo Ti do un colpo con l'arco Non dovresti morire Te ne do un paio Oh un paio ho detto E adesso ti finisco con la spada E non mi dai un bel niente Iniziamo alla grande Una cosa fondamentale Se vogliamo far riuscire la nostra missione È che dobbiamo rimuovere Tutte le torce che abbiamo già piazzato Ci sarà un po' di oscurità Probabilmente all'interno della registrazione Ma se non tolgo le torce Raga non posso fare niente Guarda quanti bei pezzi di quarzo Apriamo il nostro building box Che in realtà in questo momento Non c'entra niente Però distribuiamo il quarzo All'interno della chest Stupido blades Motti levi Se no ti spacco in due Oh Devi smetterla Non va bene così Ok L'abbiamo fatto fuori raga Adesso siamo io contro te Un colpo glielo ho dato Il secondo l'ha ammazzato Non ci credo Quello di prima era resistito a due colpi Perché questo è morto subito Che sfiga raga Serviranno davvero una marea di scheletri Se fino ad ora non ce l'ha droppato nulla Vedo tanti scheletri Ma non scheletri del Wither Perché non ti trasformi In uno scheletro del Wither Grazie Tra tutte le entità che potevano nascere Dove sono gli scheletri del Wither Eccolo lì Il mio amichettino Senti avvicinati un po' a me Doresti scendere Bravo Ti do un colpo stavolta E poi ti spado Ti spado e mi dai la testa Vero? Il carbone Ma dai Ce n'è un altro laggiù Stanno nascendo Questa cosa mi dà molta molta fiducia Tieni scendi Bravissimo Molti becchi Intanto una freccia Oh Raga ha schifato la freccia Ma che caspita L'ho penetrato completamente Non l'ha colpito Potevo scegliere una missione più semplice Senza alcun dubbio Però Non possiamo rimandare lo scontro Con il Wither Troppo a lungo Molti di voi lo vogliono vedere Io sinceramente no Ma sono in grado di esaudire Le vostre richieste Lo scopriremo Lo facciamo avvicinare Ciao amico Sì Tu ce la dovresti avere Proprio commento No No Pazzo malato Vieni qui a colpirmi Se non nascono Io ho un problema Se non mi danno le teste Io ho un problema Non nascono gli scheletri Ma ci sono i magma block Ora voi spiegatemi Com'è possibile questa cosa Che senso ha questa cosa Che caspita Ciao blades Scusami Devo solo ucciderti Nient'altro Grazie Vedo con piacere una spada Vieni qua No Disastro Senti è stato un incidente Non raccontarlo a nessuno E andrà tutto bene Porca miseria Volevo sparare a lui No Non ditemi che devo combattere Anche contro i pigman Adesso Non ci voleva Questa raga Non ci voleva Non ci voleva proprio Non ci voleva proprio Aia Aiuto Aiuto ragazzi Ci stanno chiudendo in un angolino E droppami Stai calmo È stato un incidente Chiamo il mio avvocato Se non mi lascio in pace Chiaro Ragazzi Non volevo fare questa cosa Non dovevo andare così Giuro che non dovevo andare così Io mi auguro che loro non abbiano visto Perché se loro hanno visto Siamo nei guai Non sembrerebbero aver visto però Ah che sono pacifici Meno male Meno male Meno male Allora senti Beccati sta freccia into the face È scatabem E ora ti becchi anche due spadate A una è bastata E neanche una testa Molto bene Ciao bello Oh porca miseria Non me l'aspettavo Ti ho venuto dietro Disgraziato Non mi fai niente Sono corazzatissimo Eh non mi dai neanche niente però Che caspita Mi piacerebbe avere tutta la pappardella Già scodellata e pronta Ma non è fattibile Quei la Sai che ti ho visto eh Pensavi di nasconderti da Stepney Te lo scordi Non si sfugge all'occhio funesto Di Stempi Tu mi hai visto? Bravo Ce ne sono due raga Perfetto Un colpo Una spadata E muori E non mi troppa niente Meraviglioso No Ce n'era un altro Ed è spawnato Kamikazum Nada 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 Come ti azzardi a spararmi da lontano Te devi morire E basta Ciao amico Uh ce ne sono due raga Regalino da parte del gioco Ti becchi una spadata Poi un'altra E poi un'altra E sei morto Mi ha dolpato la spada Per un attimo ho detto Vai Eccola la prima testa Oh ce n'erano tre Oh 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 Ma che è successo? No 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 Ha dato un colpo di lag ragazzi Un lag pesantissimo Che potrebbe mettere a ripetaglio la mia vita Se neanche uno mi droppa qualcosa È la fine Raga Quattro Tutti qua Tutti riuniti Che caspita Era un party? No in realtà sono contento che siano nati così tanti Va benissimo No L'ho preso con la freccia Sono proprio stupido Ce n'è un altro laggiù Bene 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 Vieni bello Abbiamo capito Una spadata E mi dà la testa Niente testa Ragazzi sono senza parole Cioè non droppano e muoiono in un colpo Ma com'è possibile? C'ho looting Tre Tre di nuovo in un colpo solo raga Perfetto Perfetto Scendi giù Bravissimo Perché camminano sul bordo? Gli piace il pericolo? E neanche una testa E proseguiamo Ne attiriamo uno per volta eh Ehi la Guarda questo che mi aspettava in cima Vergognati Vergognati proprio Vergognati Non mi dai neanche la testa Non mi dai E l'altro è despownato Nel frattempo Ma che sfiga Prima o poi Qualcuno la dropperà la testa Cioè prima o poi dovrà capitare Quella situazione Ciao amici We are back Uh ce ne sono quattro raga Quattro e tanta roba Lui niente Come al solito Daie Daie Dai che droppi Dai che droppi Dai che droppi Ehi la Ehi la Ehi la Erano cinque raga Erano cinque mostriciattoli del mal E nessuno ha droppato niente Con looting tre No non ha senso questa cosa Mi dispiace dirvelo In passato le ho trovate senza looting Dove sono le teste? Cavolo raga Questo era jackpot comunque Cinque in un colpo solo Non credo mi fosse mai capitato prima Eccoli Carichissimi la squad Madonna se sono tanti eh Va bene uno per volta Io non ho paura di voi Voi dovreste aver paura di me Quello ha droppato solo il carbone Addirittura neanche le ossa Ma mi prende in giro O non la droppano più Oppure devo ucciderli in un modo ben preciso Per farmi la droppa Ma non è possibile Credo che dobbiate vedere questa cosa Mi sono informato per capire un po' Come fanno le persone a farmare gli scheletri E questo tipo ha realizzato Una piattaforma gigantesca Dove c'era situata una fortezza del nether Per ogni livello Come vedete ha messo tre Iron golem Quindi uno qua uno qua uno qua Così nascono i mob I mob normali vengono colpiti dalle rose del weeder Mentre i weeder skeleton ovviamente vanno attraverso Attirati dal golem E cadono di sotto E diventano praticamente carne da macello Dobbiamo incrociare le dita E sperare che ci droppino Queste dannatissime teste Aiuto Aiuto raga Ci sono troppi scheletri adesso Per quale motivo Da non averne Da averne una marea E non droppano ovviamente niente Ma quando mai Possono droppare una testa Una stupidissima testa Morite Datemi le teste Datemi le teste Datemi le teste Ma dammi ma che senso ha Ma ogni quanti scheletri Mi deve arrivare una testa Perché così non è possibile Sta roba Almeno una Ma per ricordarmi Come è fatta Oh Altri tre Altri tre Altri tre Molto bene Molto bene Dovete darmi una testa Mi chiedo molto Una testa Oh Me l'ha data 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 Sì Progresso compiuto scheletri Nell'armadio Teschio di scheletro Del weeder Ne abbiamo uno raga Ne mancano Solamente due Posso virgolettare Questa cosa per piacere E droppamene subito un'altra Fai il bravo ragazzo Bravi ragazzi Nei brutti quartieri Spaccano gli weeder E sperano in testa Che ne mancano ieri Che non seppo di play Di scheletri Scheletro Tutti insieme Oh Oh no 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 E' una sommossa raga E' una sommossa Mi stanno ammazzando Mi stanno ammazzando Se mi colpisce sono morto Se mi colpisce sono mortissimo Oh Disastro nucleare Stavo per morirci male Sei da solo? Ah ah Che vuoi farmi l'agguato dietro il muro? Oh Maledetto Mi ha fregato Mi ha fregato di brutto raga Ero andato da una parte E lui era dall'altra E sparamela in faccia A meno si ride tutti E' morto E' morto E' morto Gunpowder Oddio no Oddio no Disastro Disastro Stavolta mi han visto Stavolta mi han visto Oh porca palettina Siamo morti Aiuto Scappa 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 La missione è infinita Apparentemente Io vi sento Sono sopra di Ecco Uno è laggiù E uno è qua sopra Ah ah La mia farm privata Di scheletri Uh Ce n'è uno pure qua Oh Oh Cosa Cosa Oh me Ah Ragazzi Che culo Che culo Che culo Ci sono una marea Ti prego Ti prego Ora o mai più Devi darmi sta testa Ti supplico su quello che vuoi C'è pure un ghast Cosa sta succedendo qua Aiuto Calmo Uno per volta Uno per volta Vi ammazzo tutti raga Uno per volta Tutti quanti One per one One fu one One fu one One fu one No quanti ce ne sono Mi sono chiuso Mi sono incastrato Aiuto Aiuto Mi spara pure il ghast Mi sparano tutti Qui è dove mi hanno droppato La prima testa Bravissimo Bravissimo No Quasi Quasi Ma non è andata Quasi E dai Quasi un'ora di registrazione Per una testa No non cadere Non ti azzardare A cadere Niente Come al solito E niente Come al solito Aiuto Aiuto Che sta succedendo Quanti siete Calmi Mortacci Vostra E vattene di sotto No Perché l'ho buttato di sotto Come minimo Quello c'aveva la testa Del Wither Come minimo Aiuto Smettetela Oh Oh Me l'ha droppata Me l'ha droppata Raga Non ci credo Ne manca solamente una Non ci voglio credere Vieni qua figliacco Devi morire Male Oh Vaffan cuore va No raga Sogno son desto Fermi 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 Il miracolo Non è vero Non è vero Non è vero Raga io me lo sentivo Che sarebbe succedere Guardate Raga è l'ultima È l'ultima testa Non ci credo Tre teschi del Wither Tre teschi del Wither C'è qualcosa che non mi torna Perché fino a prova contraria Intanto mi mangio un panino Io Dentro al Supreme Backpack Ne avevo già una Ne abbiamo quattro adesso È assurdo raga O uno me ne ha droppate due E non me ne sono reso conto Non so Non so cosa sia successo Va bene così Va benissimo così Che fatica Ve lo giuro Sto registrando da un'ora e venticinque minuti E non ho trovato altro che morte e distruzione No la morte no Morte l'ho portata io Scordatevi che io crei il Wither in questo episodio Proprio non esiste Adesso dobbiamo renderci conto psicologicamente di ciò che dovrà accadere Perché fino ad allora io non combatterò nessun Wither visto che probabilmente mi distruggerà Pensare che io sto utilizzando una spada con looting 3 Cosa sarebbe successo se non ce l'avessi avuta eh Cosa caspita sarebbe successo se non avessi avuto la spada Me lo dite voi perché io non lo so Bye bye Piazzale qua dentro Le mettiamo divise perché rendono di più l'idea Siamo contenti? Ma la possiamo anche tenere come Cimelio Il che è perfetto Cari amici questo 41esimo episodio termina qua È stato infinito per me da registrare Non che abbia fatto episodi sempre più corti Però spaccare Wither, Skeleton per un'ora è un po' noioso Se vi è piaciuto il video mi raccomando spolliciate Commentate e iscrivetevi alla campanellina Scrivetemi qua sotto nei commenti Dove dovremo far spawnare il Wither Secondo voi Io vi ringrazio per aver visto il video Vi saluto Qua sempre è tutto Bye bye E mai tanto non le troverai mai le teste di Wither in un colpo solo Tiè A faccia tua Wilson A faccia tua